Potrebbe essere il maltempo, la pioggia battente, la causa del pauroso incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio sulla Trignina, vicino allo svincolo di San Giovanni Lipioni, in territorio di Castelguidone. Due mezzi coinvolti, un tir che trasportava argilla, che viaggiava in direzione San Salvo, ed un furgone di una ditta di elettronica che proveniva dalla direzione opposta, diretto verso Trivento. L'impatto è stato violento al punto da far finire il mezzo pesante nella scarpata, mentre il furgone si è ribaltato, terminando la sua corsa in mezzo alla carreggiata. Feriti i conducenti dei due mezzi, si tratta di un uomo di 58 anni di spinete, che era alla guida del camion, mentre il conducente del furgone ha 32 anni ed è di San Salvo. Ad avere la peggio è stato proprio quest'ultimo, che è stato estratto dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Vasto e Campobasso, e trasportato all'ospedale San Pio di Vasto con fratture multiple. Qualche contusione per l'uomo di spinete. Sul posto i carabinieri di Celenza sul Trigno e a Tessa, oltre ai sanitari del 118. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire la rimozione dei mezzi incidentati, grazie anche all'utilizzo di una gru utilizzata per recuperare il tir finito nella scarpata e per pulire la strada sulla quale si è riversata parte dell'argilla trasportata dal tir. Disaggia la circolazione deviata sulla viabilità secondaria. Spetterà le forze dell'ordine intervenute per i rilievi, stabilire l'esatta dinamica e le cause dello scontro. L'incidente, lo ricordiamo, si è verificato a poca distanza dal luogo in cui, lo scorso 26 agosto, perse la vita l'attrice agnonese Paola Cerimele. Grazie.